volevo portare la mia signora in un posto magico ed eccoci qua davidone in action è la mai in action salve a tutti il davidone nuovo in action non da solo c'è la mia mogliettina in action ciao abbiamo lasciato la nostra città e siamo in valgrande oggi è piovuto ma stasera dovrebbe dare bello e andiamo al famoso bivacco del gufo dove appunto nasce la faccia da gufo davidone in action please and peace ciao 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 buongiorno buongiorno vivacco del gufo ciao Allora siamo arrivati, siamo in compagnia con due Svizzere, vero? Allora noi abbiamo fatto qua la nostra pasta. Maria, Pasquale e Pasquale, loro mangiano di qui, dopo mangiamo insieme di là, poi mangiamo di lì, un po' così e divideremo la notte. Sì, mangiamo il risotto ai porcini, ma non li abbiamo trovato, non sono freschi, ma sono buoni. Questa dove dormono loro, questo è il nostro posto. Sì, mangiamo glicourse povoli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.